Dal 13 luglio scorso la campagna di vaccinazione anti-covid ha allargato nelle Marche la possibilità della quarta dose agli over 60. Fasce anagrafiche che nell'ultimo mese per quel che riguarda la città di Pesaro hanno però dovuto migrare verso Fano e Urbino, visto che da fine giugno l'ex Ristò ha cessato le sue funzioni da hub vaccinale con la proprietà della struttura rientrata come d'accordi in possesso dei locali interni al Rossini Center. Chi vuole vaccinarsi a Pesaro tuttora può farlo soltanto in farmacia oppure al punto vaccinale di Muraglia se soggetto ritenuto appartenente alle cosiddette categorie fragili. Dopo diverse settimane di ricerca è stata però la disponibilità di Marche Multiservizi a risolvere l'individuazione di un nuovo punto vaccinale. L'azienda si è infatti accordata con Asur e Area Vasta 1 per mettere a disposizione delle interno alla struttura di Via Toscana. Sono in corso le ultime verifiche sull'idoneità dei locali alla pratica sanitaria ma salvo controordini dal 1 settembre medici, infermieri e staff della protezione civile si trasferiranno negli spazi che abitualmente Marche Multiservizi utilizza per convegni o conferenze stampa. Spazi più piccoli rispetto all'ex Ristò ma funzionali alla domanda attuale delle vaccinazioni. Per quel che riguarda i parcheggi c'è la possibilità di sosta libera lungo Via Toscana. L'accordo fra Asur e Marche Multiservizi prevede un comodato d'uso gratuito fino alla primavera del 2023.